Apprensione per Fedez. È tornato in sala operatoria per emorragie. Ecco tutti i dettagli nel video. Benvenuti su Quotidiano Notizie. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Le ultime notizie provenienti dall'ospedale Fatebene Fratelli di Milano riportano un'ombra di apprensione per il noto rapper Fedez, il quale è stato ricoverato giovedì scorso a causa di gravi problemi di salute causati da due ulcere che hanno provocato un'emorragia interna. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il rapper avrebbe subito un nuovo episodio emorragico ieri, che ha richiesto una nuova trasfusione di sangue. Le aspettative di un suo imminente congedo dall'ospedale sembrano ora essere state riviste, poiché il suo stato di salute rimane instabile. Chiara Ferragni, sua moglie, è al suo fianco in questo momento difficile. Il professor Massimo Falconi, il chirurgo che ha operato Fedez nel marzo del 2022 per un tumore al pancreas, aveva inizialmente espresso un certo ottimismo sulle condizioni del rapper, affermando che, essendo giovane e in buona salute, potesse essere dimesso dopo pochi giorni di osservazione. Tuttavia, il nuovo episodio emorragico sembra aver complicato la situazione. Falconi ha anche chiarito che non vi è alcun collegamento tra le ulcere e l'intervento chirurgico subito da Fedez per il tumore, poiché le manifestazioni simili sono piuttosto rare a distanza di tempo così significativa dall'intervento. La causa potrebbe essere legata a una secrezione acida gastrica elevata rispetto al normale, a stress o all'assunzione di farmaci senza protezione gastrica. L'operazione subita da Fedez per trattare le ulcere non sembra quindi avere alcuna correlazione con il suo precedente problema oncologico. L'artista si è sentito male in aeroporto, quando era in procinto di imbarcarsi su un volo per Los Angeles. Fortunatamente, è stato tempestivamente portato in ospedale, dove ha ricevuto cure immediate. Fedez ha ringraziato pubblicamente il personale medico per avergli letteralmente salvato la vita attraverso le trasfusioni di sangue effettuate. Vi terremo aggiornati sulla vicenda. Ma per farlo iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Lasciate un commento al video e un mi piace. Arrivederci!